Nel 1974 Loris Pegoraro intravede prima nella raccolta della carta da macero e poi in quella della plastica, la possibilità di realizzare un'impresa innovativa in grado di durare nel tempo. Erano gli anni del grande sviluppo post-industriale, anni in cui gli scarti e i rifiuti occupavano spazi sempre più estesi delle nostre menti e nelle nostre città. La crisi petrolifera a cavallo tra anni 70 diede la spinta finale alla prima nostra creazione, la plastica rigenerata. L'applicazione immediata della ricerca e la continua sperimentazione consentono di progettare e sviluppare gli impianti internamente. Su questo punto di forza nasce una delle più storiche aziende venete nel settore. All'inizio degli anni 90 le seconde generazioni sono quasi pronte e il desiderio di realizzare un prodotto finito tutto nostro si fa sempre più grande. Doveva essere un prodotto innovativo, un prodotto senza confine, utile al benessere dell'uomo, alla sua sicurezza e alla sua casa. Questa è la vision che ha ispirato il modulo. Fiere, viaggi e il continuo ascolto dei bisogni della gente e dei progettisti ci stimolano nel primo decennio del 2000 a creare continuamente prodotti nuovi, legati tra loro da un'idea e da un obiettivo comune. Costruire una casa sicura per tutti, in grado di adattarsi alle esigenze della natura e di convivere con essa. Nascono così i prodotti per il verde e per l'acqua. Oggi il mondo è sempre più connesso e paesi che ieri erano lontani non solo geograficamente, oggi ci vedono, vogliono crescere e avvicinarsi a noi. La casa è sempre stato l'elemento fondamentale di ogni popolo e di ogni comunità, ma nel contempo può essere anche complessa e costosa da realizzare. Sostenibilità, semplificazione, durabilità e alleggerimento sono stati e sono i nostri imperativi per creare un sistema di costruzione innovativo. Da questi concetti nascono le casseforme Geoplast, con l'intento di rivoluzionare il mondo delle costruzioni. Il nostro segreto è pensare semplice, pensare che le cose non debbano per forza essere complicate. L'innovazione è semplicità e soprattutto, se non è per tutti, per noi non è innovazione. Grazie. Grazie.